Allora, questo è davvero un momento di cambio profondo. Da un lato c'è chi fa l'elenco delle difficoltà, c'è chi fa il catalogo dei problemi, una sorta di lungo elenco di sfighe cosmiche che il nostro Paese sembra destinato a sopportare nei secoli. E dall'altro c'è chi, di fronte a questa situazione, consapevole di non avere superpoteri, di non essere né superpippo né paperinic, di non essere chissà chi sceso dal cielo, ma essendo animato dalla forza di 70 anni di valori ed essendo desideroso di 70 anni di ideali ancora da costruire, prova a dire che questo non è un Paese finito. L'Italia è un Paese infinito, con la sua forza, con le sue ricchezze e a quelli che gufano, sperando che le cose non vadano, rispondiamo con il doppio dell'impegno.